Buongiorno, anzi qua si dovrebbe dire buonasera, sono negli Stati Uniti, sono le 9 di mattina, anzi sono le 9.44, ieri sera abbiamo fatto tardi o fatto tardi per sentire la convention democratica. Devo dire che ha parlato Hillary Clinton e questo lo vedrete oggi sui giornali, la sua è stata una posizione abbastanza, come si può dire, di sinistra, cioè contro i ricchi che pagano poche tasse per il controllo delle armi, insomma ha fatto delle grandi aperture più a Sanders, cioè il suo concorrente alle primarie, che ai moderati repubblicani, anche se questo appare sui giornali. Ma la cosa incredibile di ieri non è stato tanto il discorso di Hillary Clinton, ma mi ha davvero colpito il discorso della figlia Chelsea Clinton. Allora, forse per gli standard italiani ed europei è una cosa particolare, bisogna leggerla con chiavi di letture diverse, la convention democratica, ma anche quella repubblicana di Donald Trump. Su quella di Donald Trump abbiamo esercitato tutta la nostra arte critica, prendendo in giro la gente, i bikers, quelli che volevano le armi, le armi all'interno della convention, i personaggi strani. Ma ieri io invito tutti quanti a vedere, da qualche parte sulla rete la potrete trovare, invito a vedere il discorso di Chelsea Clinton, della figlia nei confronti della madre, in cui alla fine retoricamente dice vorrei avere anch'io dei figli che siano orgogliosi di me come io lo sono di mia madre. È stato un discorso imbarazzante, sembrava scritto da un sceneggiatore di serie B, di una fiction italiana, oppure di una di quelle fiction sudamericane che vanno alla grande, soprattutto a Mediaset, dove fra poco andrò, tipo Il Segreto. Nel senso che è una roba piagnucolosa, di orgoglio, I'm proud, never ever, l'avrò detto dieci volte, mai, mai nella mia vita potrò pensare di tradire la fiducia di mia madre e cose di questo tipo. Era un discorso non smielato, imbarazzante, non c'era nulla dentro, nulla. Io ho preso degli appunti, cercavo di prendere degli appunti per dire vediamo che cosa dice. Già l'idea. La nonna sarebbe orgogliosa di te. Tutto così. E poi perché mia madre è l'unica che può combattere a favore dei diritti degli LGTB e poi per il climate change, per i cambiamenti climatici e poi il gun control, cioè la figlia raccontava quell'anima un po' desinistra che i giovani dovrebbero avere, secondo le indicazioni probabilmente degli spin doctor, nei confronti dell'elettorato. Insomma, se tu e voi vedete Chelsea Clinton ieri che parlava al congresso con il padre Bill, il traditore, perché tutto è, tranne che quello non si può dire non sia, il traditore della madre e della figlia con una ragazzina che aveva la stessa età della figlia, questo nell'America del congresso si dimentica così come in Italia si dimentica. Mi sarebbe piaciuto avere un giornalista italiano che invece di essere pregiudizialmente contro Trump o anche a favore di Trump, perché Trump ne dice di tutti i colori, oggi l'Economist, e poi ne parleremo più tardi, fa una copertina abbastanza condivisibile. Ma insomma, se un osservatore, che purtroppo non sono io, che sapesse scrivere e conoscesse bene l'America, raccontasse ieri il congresso democratico, racconterebbe di un'America che è veramente anni luce rispetto all'Italia, all'Europa, nel bene e nel male. Ieri noi non avremmo fatto passare le dichiarazioni di Chelsea Clinton perché l'avremmo ridicolizzata nella sua retorica di quarto grado da SOP di, con tutto rispetto di Rete 4. Detto questo, andiamo sulle cose serie. Oggi, il venerdì esce l'Economist, la copertina è l'Europa divisa in due, non è più tra destra e sinistra e questa è rivolta, non è una grande scoperta, finalmente l'Economist è arrivata e tra quelli che vogliono chiudere e quelli che vogliono aprire, tra quelli che vogliono i muri e quelli che non li vogliono. Questa semplificazione dell'Economist io non la condivido perché l'Economist fa semplicemente una divisione tra buoni e cattivi, i buoni sono quelli che vogliono aprire, i cattivi sono quelli che vogliono chiudere, non capendo che le sfaccettature purtroppo sono molto diverse. Dice oggi c'è un rischio, e questo forse è vero, che non è più quello del comunismo e anche questo forse è vero, e cioè il rischio della chiusura delle frontiere. Io su questo lo condivido al 100%, ma se pensiamo di combattere la chiusura delle frontiere con le accoglienze alla Merkel, con l'incapacità di accogliere in maniera ordinata gli immigrati, allora l'Economist sbaglia. Se pensiamo di difendere l'Europa come ha difeso l'Economist alcune scelte completamente sbagliate dell'eurocrazia, allora sbagliamo. Comunque il tema dell'Economist è sempre interessante, come voi sapete l'Economist ragiona per l'establishment internazionale e europeo, chi ha voglia se lo legga. Stupendo oggi contro il Papa, decisamente contro il Papa e le sue guerre, che non è di religione ma di interessi economici. Ieri si è esercitato, oggi molto bello il pezzo di Cerasa, ma anche quello di Ferrara, in cui dicono ma quale guerra di interessi economici? Questa è una guerra di religione, è una guerra contro i cristiani in Medio Oriente, leggetevi con attenzione oggi Cerasa e il Foglio per capire come questa guerra anche nei fatti sia di religione. Parisi fa un po' di interviste ovunque e il nuovo si capisce, anche se non lo dice, il nuovo leader del centrodestra è l'unto dal Signore, cioè da Berlusconi, rispetto agli altri ha un grado di autonomia superiore, gli altri unti dal Signore rispetto a Berlusconi e Berlusconi forse è meno presente. Interessante la sua posizione, dice non ha più le penisti, cioè sostanzialmente una porta sbattuta in faccia a Salvini che ovviamente non se lo fa dire due volte, lo attacca. Oggi la Palmerini sul sole dice in realtà quella di Salvini non è una battaglia contro Parisi, ma contro Maroni, Maroni e Parisi sono due che si conoscono sin dall'articolo 18 ai tempi della Confindustria, in cui Parisi era il direttore generale della Confindustria con Amato, grande presidenza della Confindustria, forse l'ultima grande presidenza della Confindustria in cui la Confindustria sperava di fare ancora qualche cosa per questo Paese e non per i vertici e per il loro futuro politico. Moltissima economia oggi sui giornali, la cosa fondamentale è la lettera di Marina Berlusconi contro Bolloré, nel senso che dice negli affari ancora contano le strette di mano, oltre che i contratti che noi abbiamo siglato con Vivondì, il fatto che loro non li rispettino è una cosa incredibile per la figlia di Silvio Berlusconi ed è, devo dire, imbarazzante in effetti il comportamento di Vivondì, lo spiega bene Federico De Rosa oggi sul Corriere della Sera in cui dice attenzione perché stanno lavorando dei puntieri per mettere insieme ancora Mediaset con i francesi. La storia la sapete tutti quanti, i francesi di Vivondì avevano comprato una parte di Mediaset che si chiama Mediaset Premium, che faceva sostanzialmente le partite e del concorrente di Sky, alla fine dicono noi non lo prendiamo più. Dopo aver firmato il contratto Marina si arrabbia, Federico De Rosa sul Corriere ci racconta perché i francesi non lo comprano, perché in realtà il buco che ci aveva questo Mediaset Premium non so se è previsto o non previsto, evidentemente io posso dubitare che ci sia un buco non previsto, i francesi con tutti i loro avvocati eccetera non se ne accorgono, però la situazione di Vivondì è tale per cui sta perdendo un miliardo e mezzo in Telecom perché ha comprato dei titoli a un prezzo superiore a quello che oggi valgono, un miliardo e mezzo a Telecom Italia, potrebbe perdere dei soldi per svalutare la nuova acquisto di Mediaset Premium, non gli stanno andando bene alcune acquisizioni che ha fatto negli ultimi anni, quindi i francesi alla fine per evitare di perdere, di svalutarsi o di fare degli accantonamenti di bilancio importanti, cioè segnare nel conto economico come negative alcune poste, decidono di rompere un contratto con gli italiani di Berlusconi. Devo dire, è una storia molto interessante anche perché Bolloré è sempre stato considerato un grande amico di Silvio Berlusconi e il loro trait d'union si chiama Tarac Ben Ammar che è sempre stato considerato il berlusconiano in Francia o il francese berlusconiano in Italia. Quello che volete, insomma c'è un intreccio tra queste famiglie Bolloré, Tarac Ben Ammar e Berlusconi che sembrerebbe rompersi, quindi per chi è appassionato ai fogliettoni economici questo è fatto alla grandissima. Torna in campo Corrado Passano, la cosa che sa fare meglio cioè la finanza e non tanto la politica rispetto ai risultati che lui ha ottenuto, detto questo il suo tentativo anche con Parisi è stato un tentativo che ha avuto una sua dignità ma comunque sia lui ritorna in campo per fare l'amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena. Mi viene da dire che come è stato gestito negli ultimi anni nella sua incapacità del Monte dei Paschi di Siena nonostante tanti aumenti di capitali, soldi che sono entrati nella banca di risolvere i suoi problemi ci vorrebbe più che un piano industriale effettivamente un amministratore che lo tiri via delle secche quindi non è sbagliata l'idea di un nuovo piano di Passera fatto con UBS, una grande banca internazionale questo piano prevederebbe di togliere un po' di questi debiti di questi prestiti incagliati, di queste sofferenze ma tutto questo è in concorrenza con un altro piano quindi tra oggi e domani si capirà se vince il piano di Passera o il piano di Mediobanca piccola considerazione, so che l'economia interessa poco però è interessantissimo nei grandi poteri dell'Italia qua un'altra volta troviamo un uomo di Intesa Passera anche se non lo è più ovviamente contro Mediobanca anche su RCS c'era Mediobanca contro Banca Intesa di Miciche e Messina e lì Mediobanca ha perso se dovesse perdere anche Monte dei Paschi di Siena sarebbe una storia veramente incredibile difficile da credere della Valle non ci sta a perdere il Corriere della Sera a proposito di Corriere della Sera perché fa un ricorso al TAR per la decisione della Consob di non annullare l'offerta di Cairo funziona sempre così in Italia quando uno perde c'è sempre un giudice al quale potersi rivolgere sperando che le cose vengano capovolte e spesso vengono capovolte infine lo commentano ovviamente tutti i giornali del gruppo Caltagirone ma non solo anche il Sole 24 Ore il cui direttore viene dal gruppo Caltagirone Nabolidano è una grande acquisizione fatta in Francia dal gruppo Caltagirone in realtà non è un'acquisizione Caltagirone gli vende un pezzo di Acea che è la municipalizzata romana e prende delle azioni di Suez che controlla appunto Acea ovviamente è un'operazione importante perché Suez è una grandissima società ma in realtà Caltagirone ne deterrà mi sembra il 3,5% troppo poco per comandare e in Francia o in Belgio ci insegnano che gli italiani gli fanno entrare dalla porta di servizio ma al comando non c'entrano nel frattempo però i francesi si sono comprati la municipalizzata romana in cui Caltagirone non tocca più palla perché è arrivata una sindaca che si chiama Raggi che con Caltagirone c'ha un conto in sospeso ultima acquisizione quella internazionale fatta da Atlantia che sarebbero le autostrade Benetton, Castellucci beh insomma si sono comprati l'aeroporto di Nizza il terzo aeroporto importante di Francia erano in tanti a far questa gara in maggioranza c'erano la cordata che vince è quella degli italiani è una cosa incredibile non perché gli italiani comprino e riescano a gestire una gara così importante ma perché quelli che gestiscono Fiumicino non così bene riescono a comprarsi un aeroporto come quello di Nizza che è così importante e strategico per il paese in bocca al lupo ad Atlantia in bocca al lupo anche ai passaggeri di Nizza sperando che non venga gestito male come nel passato sono stati gli aeroporti di Roma ma direi che c'è tanta carne al fuoco sull'economia non sono cose sexy però vedrete che in funzione di queste cose i poteri in Italia cambiano Renzi in tutto questo fa vacanza e propone cose che oggi lette oggi danno il sapore del déjà vu il solito Renzi ciao